Fin da ragazzo ero un avventuriero, mi piaceva viaggiare ma allo stesso tempo mi piaceva scrivere poi è arrivato internet e ha cambiato il meccanismo, il sistema, i metodi di tutto questo in modo sotto alcuni punti di vista più vantaggiosi in altri svantaggioso il web sicuramente è un mezzo utile, è utile per tanti motivi quali per fare shopping a basso costo, è utile per vendere il proprio usato è utile per le proprie ricerche e lavore, quindi per darsi opportunità poi ovviamente queste opportunità che il web offre, alcune sono positive, altre negative sicuramente comunque da una scala da 1 a 100 io considero il web valido al 70% ciao